Ben ritrovati in rete, vi aspetto non in rete ma a Milano, domenica mattina al Teatro Nuovo per l'Assemblea federale dei giovani padani da tutto il nord. Tutti parlano di giovani, il governo Letta, qua il Parlamento europeo, aiutiamo i giovani, diamo una pacca sulla spalla ai giovani, ma in concreto chi fa cosa? Nessuno. Questa Europa sta rubando il futuro a voi, se avete 18, 20, 25 anni, costringendovi ad andare a lavorare dall'altra parte del mondo, perché questa Europa sta chiudendo tutto quello che è la nostra manifattura, la nostra impresa, il nostro artigianato, sulle nostre scuole, perché le multinazionali così hanno deciso. I giovani padani dicono no, vanno controcorrente, fanno i bastian contrari se serve, tornano a parlare di indipendenza, va bene la macro regione, va bene la battaglia sulle tasse, però vogliamo l'indipendenza, vogliamo l'autonomia, non centriamo niente né con questa Italia e men che meno con questa Europa. Quindi se volete sentire parlare di contenuti, di idee, di progetti, di casa, di lavoro, di agricoltura, di famiglia e di futuro, vi aspetto domenica, mattina a partire dalle 10 in piazza San Babila Miano, teatro nuovo, non c'è spazio per l'ipocrisia, non c'è spazio per i democristiani, c'è spazio per chi ha voglia di dare battaglia e di pensare un futuro diverso. Con i giovani padani ho 40 anni, sarò ospite, spero che tanti di voi verranno a sentirci, magari per la prima volta e sono sicuro che andrete via soddisfatti.